Qua è Laia, ciao a tutti e sto con Ludovico che vuole fare un saluto soprattutto a voi che ci seguite Sperando che continuerete a seguirci, un saluto a Laia, a Giorgio Alessandro, Forza Roma, Forza Lupi Sperando che non ci siano naziali, ci vediamo, buona fortuna, in bocca al lupo, ciao, grazie a te